Accadde oggi! Se Belluno deve perdere soldi, allora quel passaggio va distrutto. È il ragionamento che il Consiglio cittadino trasforma nel provvedimento che porta alla distruzione della strada della Valle del Mis. La decisione è resa ufficiale l'8 aprile 1568. Qualche mese prima, una violenta inondazione distrugge diversi manufatti che si trovano nei dintorni degli argini del Cordevole, lungo quello che viene chiamato il Canal d'Agordo e che ancora oggi accoglie il tracciato della principale strada di collegamento tra Val Belluna e Agordino. Tra gli edifici intaccati dall'inondazione, anche quello per il pagamento dei dazi alla Muda. Dato che la strada periodicamente ha dei problemi a causa di frane, erosioni e dissesti vari, i commercianti Agordini si assicurano un secondo collegamento con Belluno tramite la Valle del Mis. Là però non c'è alcun gabegliere e così l'amministrazione pubblica perde soldi. Alla fine il Consiglio della città stabilisce che si mandi il Cavaliere del Clarissimo Rettor per far desfar detta strada, il quale debba menaceco quattro boni e sufficienti uomini degli lochi di questo territorio che si erano più vicini alla detta strada per far menor spesa a essa comunità con gli strumenti che faranno per ruinare detta strada e quella far ruinare ed esfarne gli lochi uno o er più o e li parerà essere necessario sotto questo territorio stifattamente che non si possi più per quella passare con cavalli. In sintesi, il Cavaliere del Rettore, che è Girolamo Miari, deve far distruggere la strada il prima possibile e cercando di risparmiare su manovalanza e attrezzature. A dicembre l'ordine è eseguito. Nel frattempo, per sistemare la strada principale e la dogana della muda serviranno decenni. La strada della Valle del Mis vivrà nuovamente tempi travagliati. Nel 1919 prende più o meno l'attuale conformazione e garantisce un collegamento diretto tra Sospirolo e gli abitati di Tiser e Rivamonte. L'attività mineraria in valle rende necessario e più che giustificato quel collegamento, ma l'alluvione del 1966 spazierà via il lavoro, la permanenza delle persone in diversi borghi e anche la strada, che sarà riaperta dopo lunghe battaglie solo a metà degli anni 90. E dopo la sua riapertura, questa strada ha avuto molte vicissitudini, molti problemi, però ha continuato ostinatamente a svolgere il proprio ruolo, quello di collegamento. Il suo futuro è nell'apertura e non nella chiusura. Lo stesso si può dire della nostra provincia ed è proprio questo il senso di Accadde Oggi che con questo centesimo episodio volge al termine. Il senso è in questo e nell'auspicio che continueremo a percorrere il mondo e a farci percorrere. Accadde Oggi